Noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Chiesa Evangelica di Partinico si arricchisce di altri 25 membri. Ieri l'ingresso ufficiale nella comunità con il rito del battesimo. Come sede gli evangelici hanno scelto in questa occasione la spiaggia della Ciammarita. Abbiamo battezzato più di 25 persone che sono membri nuovi della Chiesa alla Parola della Grazia di Partinico che fa parte della Chiesa alla Parola della Grazia di Palermo che è la Chiesa Evangelica Pentecostale più grande d'Italia che consta 5.000 persone e questa di Partinico è un'espressione della Chiesa di Palermo che ha un'altra Chiesa a Termini Meresi, un'altra a Misilmeri, un'altra a Gela, un'altra a Vittoria, un'altra a Comiso, un'altra in tanti altri posti della Sicilia, in tanti altri posti d'Italia che sono tutte Chiese Parola della Grazia, Chiese Evangelica e Pentecostale sono nella totale più di 60 Chiese e noi oggi abbiamo battezzato, l'abbiamo fatto qua, di soliti battesimi li facciamo nella Chiesa Madre che è una grande vasca battesimale ma questa volta li abbiamo voluti fare qui alla Ciammarita perché sono tutte persone della missione della Parola della Grazia di Partinico e quindi li abbiamo voluti fare qua perché abbiamo voluto premiare queste persone, questi ragazzi che hanno deciso di servire il Signore e sono tutte persone di queste zone di Terrasini, di Partinico, di Montelepre, di Borgetto è una comunità che è cominciata qualche anno fa con sei persone che ci siamo riuniti e abbiamo cominciato a parlare del Signore alle persone che oggi conta più di 250 persone che frequentano la Chiesa e fanno gli studi biblici che hanno deciso di servire il Signore io sono innanzitutto contento di poter dimostrare quello che è la bellezza della Chiesa a volte pensiamo che quello che i telegiornali ci trasmettono sono sempre cose negative ma nella vita di tutti i giorni ci sono cose belle ci sono vite cambiate, vite trasformate, vite che hanno scelto di servire Dio, di servire Gesù e secondo il verso biblico di Matteo 28, capitolo 28, versetto 19 la Bibbia dice andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e questo è quello che noi abbiamo fatto oggi abbiamo portato un gruppo di 25 persone tra giovani e meno giovani a dare la loro vita a Gesù a dare la loro vita e testimoniare davanti alle persone che a loro hanno deciso di servire Cristo a fare la loro vita a Gesù a fare la loro vita a Gesù Grazie per la visione!